esordio in maglia granata purtroppo un esordio amaro soprattutto per una sconfitta che secondo noi è stata abbastanza meritata sì sì è stata molto molto brutta perché abbiamo dominato la partita sul piano del gioco loro si sono chiusi lì dietro e buttavano solo pallalunga come si dice pallalunga e pedalare noi siamo stati bravi a a tenere i loro attaccanti c'è rammarico perché abbiamo avuto occasioni nitide i primi minuti del secondo tempo loro hanno trovato un gol rogambolesco sul sul secondo palo con inserimento è peccato c'è stato l'arrembaggio nel finale in cui monaco è stato il centravanti di punta sì sì sono andato davanti lì per cercare qualche spizzata per per gli attaccanti ma se non sbaglio l'ho spizzata anche uno due volte ma dietro di me c'erano sette sette del carpice hanno fatto una barricata lì dietro era difficile trovare spazio